ciao a tutti oggi apriamo insieme le uova di pasqua ed ecco a voi le mega uova di pasqua guardate che grandezza è più grande della mia mano loro sono enormi dai li apriamo insieme e allora apriamo e vediamo cosa ci troviamo chi ve le ha regalate le uova la? 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 nonna chi? nonna e come si dice? grazie e come si dice Federico? wow metti più in qua se no non si vede vieni qua che ti aiuto Federico aspetta anche il fratellino prima di aprire vai Federico strappa la carta prima che lo rompi facciamo vedere com'è wow no si sente un tumore strano ragazzi aspettiamo il fratellino Dammi che nel frattempo facciamo vedere a tutti com'è l'uovo e con questi disegnini con scritto Kinder attento Feder e allora ci diamo un bel pugno vai Federico dai un pugno più forte forte bravo forte forte uh ancora uno bravo Federico già sta mangiando aspetta il cioccolato mettiamolo qua lo mangiamo certo Federico ho già mangiato amore si rompe mettiamolo da parte buono e adesso apriamo la sorpresa oh è difficile dammi vieni qua aprilo tu ci sono anche per le femminucce aspetta ci sono le istruzioni allora Stefano si Stefano ha trovato una macchinina quella di Batman e Federico invece ha trovato la macchina di Aquaman almeno penso sia Aquaman con la femminina? no è un maschio adesso proviamo a vedere come si montano wow al suo interno troviamo anche una figurina qua Stefano allora qui ci sono le istruzioni guarda ti dice allora prima dobbiamo mettere questo così poi questi dentro questo va qua al copano sì e il simbolino di Batman lo mettiamo qua davanti qua così e adesso prego guardate qua amore si schiacciano i bottoni e voilà invece Federico ha trovato questa macchinina che praticamente appunto è quella di Aquaman quindi quando andiamo a spostare questo bottone praticamente da macchinina si trasforma in sottomarino che carino dai giochini veramente carini per i bambini avendo due maschietti ho preso due ovetti per i maschietti ma potete trovare anche per femminuccia nell'info box vi lascerò il link per acquistare queste mega uova di Pasqua e se volete anche vedere altri video come video spacchettamenti di uova di Pasqua vi lascio il video della mia amica Maria a casa di Apicio che anche lei ha spacchettato le uova di Pasqua e anche Irene i rex in the wonderland che appunto ha aperto alcune uova di Pasqua come quelli di me contro te Grazie a tutti